Ragazzi, benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi mostro un qualcosa di molto, molto, molto strano, ok? Questa cosa considerate ragazzi che a me non era mai successa fino ad oggi e considerate che comunque il gioco è da Fortnite già dalla season 2 e questa cosa non mi era mai successa ragazzi. Praticamente fondamentalmente quello che andate a vedere nel video è che un tizio che ho incontrato appunto in questa pubblica che poi sono riuscita a vincere mi ha sparato letteralmente 4 volte di fila, non una, non due, non tre, ma ben 4 volte di fila con il cecchino, il Barret ragazzi. Molti pensavano che fosse un bug dell'audio ma non è stato così e quindi molti pensavano addirittura che in realtà il tizio avesse il pump in mano e che appunto lui mi sparasse col pump ma in realtà il suono era del Barret. Invece non è stato così ragazzi perché ho rivisto il replay, ho rivisto la live e appunto perché ero in live streaming e tutti quanti infatti sono rimasti scioccati da quello che hanno visto. Quindi ragazzi invito subito a lasciare un bel mi piace a questo video per supportarmi e ragazzi vi ricordo che il mio merchandising è adesso disponibile fino al 28 di luglio trovate il link qua sotto in descrizione ma adesso buona visione ragazzi. Ci sono armi qua sotto? No. Are you fucking stupid my friend? Shieldini vai Nice Mangi chissi struts Mangi chissi struts Mangi chissi struts No la ragazzolta Ligiman Ok. Perché non prende la zipline? Ma che cazzo spari? Cioè, ma fate in giro, va! Dai, su, bambino. Ragazzi. Ragazzi. Ho sentito tre colpi di Barrett. Ho detto, ma che c'è tre Barrett? Ne ha uno. What? Ragazzi. No, 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 no. Oh, my God. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 What? 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 Cosa vuol dire? Cosa? Ma cosa significa? Grazie a tutti. Quattro colpi di barrette, ragazzi? Quattro colpi di barrette, ragazzi? What? Uno, two, three, uno, two, three, uno, two, three, four, oh my dio, ragazzi? Cioè guardate Guardate la mia faccia scovolta Ma che